ben ritrovati in occasione della pasqua 2024 si vuole porre l'accento sugli eventi della passione del cristo lo facciamo con un bellissimo dipinto un dipinto un quadro che si trova nella galleria nazionale d'irlanda dublino la national gallery di dublino un dipinto che è stato scoperto negli anni 90 93 che apparteneva l'ultima dimora di questo dipinto e era la casa generalizza dei gesuiti di dublino era stato donato dall'ultima acquirente che era la dottoressa lea wilson prendendo la comunque da un'asta che era stata fatta un dipinto che in italia invece apparteneva alla collezione del marchese ciriaco mattei ce lo dicono delle fonti scritte il primo un pagamento un pagamento che si trova nel rincontro del banco della marchese mattei un pagamento che di 125 scudi fatto al caravaggio per la presa o la cattura nell'orto di cristo diciamo che questo dipinto era stato stilato da caravaggio per il marchese anzi probabilmente per la committenza del cardinale girolamo mattei negli ultimi mesi del 1602 infatti tutto il tono del dipinto richiama una sorta di annegazione di accettazione da parte del cristo del suo destino di passione di morte dopo la segnalazione di giuda ai soldati del tempio concetti di annegazioni di obbedienza che erano tipici della l'ordine dei francescani osservanti di cui appunto il cardinale girolamo mattei ne era protettore seguendo appunto anche i concetti questi concetti che si ritrovano nella imitazione di cristo nell'imitazio cristo il dipinto come abbiamo detto apparteneva alla collezione dei mattei resta nella collezione dei mattei fino al 1793 passa però un ramo cadetto dei mattei ai mattei di giove dopo la morte del figlio di ciriaco mattei gian battista mattei passa appunto nella collezione dei mattei di giove che avevano il palazzo davanti alla chiesa di santa caterina dei funari e però fino al 1793 appunto resta in questa collezione con un'attribuzione diversa attribuito a gherardo delle notti il famoso pittore nativo di utrecht olandese nell'ottocento troviamo il dipinto perché i mattei si trovano in difficoltà economiche alienano parte dei della collezione dei loro dipinti e ritroviamo il dipinto sul mercato acquistato da un nobile scozzese che sir william hamilton nisbet il quale aiutato dal pittore carlo labruzzi e dal diciamo dall'antiquario patrick moe riesco riesce ad esportare all'estero questo dipinto questo dipinto che poi verrà staranno in questa collezione nisman ed elminton oggi vide biel fino al 1921 quando edimburgo c'è la stadagual che poi verrà appunto acquistato da questa dottoressa lea wilson lasciandolo alla casa generalizza dei gesuiti e quindi scoperto questo dipinto da questo studioso italiano che lavorava appunto alla national gallery di dublino sergio benedetti e ovviamente attribuendo il dipinto proprio al caravaggio questo dipinto che si pensava perduto che però longhi aveva ravvisato in alcune varianti copie soprattutto la copia di odessa e aveva appunto impostato gli studi parlando anche di questo dipinto dalla cattura di cristo con l'evento evangelico leggermente stravolto sappiamo dalla cattura di cristo per esempio del giovane in nudo che scappa per non essere catturato nel vangelo di marco e qui c'è san giovanni dietro al cristo che sta fuggendo con il suo abito con la sua tunica verde il mantello rosso e che ha un atteggiamento simile al frate domenicano che scappa mentre stanno uccidendo pietro predicatore san pietro martire del moretto da brescia dipinto che adesso si trova alla pinacoteca ambrosiana di milano ma che un tempo era nella chiesa di san francesco a bergamo stesso atteggiamento poi per esempio il diciamo c'è anche dietro come fonte figurativa un rilievo antico di una menda danzante soprattutto per quanto riguarda il risvolto del mantello appunto di giovanni che sembra da fare quasi da nicchia no ai due personaggi principali della scena che sono il cristo ormai rassegnato nella sua tunica rossa verminia nel suo mantello blu con giuda che lo prende proprio come di forza cerca lo sta per baciare con lo sguardo nel vuoto dove appunto la luce batte sulla fronte sia del cristo che del traditore no dell'apostolo traditore e illumina anche le mani del redentore ormai abbandonato alla volontà del padre no appunto per quei concetti di obbedienza negazione che abbiamo visto seguendo limitazione di cristo siamo sempre in epoca conto riformista quindi vengono ripresi tutti degli ideali di diciamo di ascesi che erano anche tipici appunto della del passato del medioevo e poi abbiamo i tre armigeri quattro personaggi tra i tre armigeri si intrufola un personaggio con una lanterna probabilmente il caravaggio che ha dipinto questo quadro quando aveva sui 28 anni di età con questa lanterna che illumina parte della scena evangelica e illumina anche il suo di volto no e quindi veramente lui partecipa all'evento sacro l'evento drammatico evangelico poi abbiamo l'armigero in primo piano che indossa una corazza si può dire di manifattura lombarda una corazza da cavallo con questa bellissima luce che gioca sullo spallaccio e sulla parte appunto del braccio anche sulla celata e così anche sulla celata del secondo armigero e la fattura è una fattura perché è una armatura da cavallo con dei bordi dorati di fattura lombarda viene in mente la tradizione dei marmorari e degli spadari lombardi ad esempio come missaglia no è un'altra cosa particolare da tenere questo sfondo tenebroso ovviamente il peccato il tradimento che insidia la luce la luce del mondo la luce divina che è il cristo stesso il quale ormai si è abbandonato al volere del padre e questa veramente una scena commovente nel senso che anche lo stesso artista che sappiamo avere un carattere molto ribelle denota una sorta di domanda interiore di ricerca di ricerca verso l'assoluto e lo fa appunto magistralmente in questo splendido dipinto notare come la cromia con pochi colori no le variazioni di nero ma sulle armature la bellezza della della luce dietro c'è tutto il discorso di matrice lombardo veneta perché poi anche la forma del dipinto e tre quarti con cui sono rappresentati i personaggi sono di foggia lombarda quindi nella tradizione proprio del realismo lombardo si inserisce il caravaggio e quindi ne scaturisce questo capolavoro veramente di grande emozione anche di grande si può dire commozione interiore questo abbandonarsi alla volontà di dio per poi essere glorificati il caravaggio lo fa trasparire molto bene anche nel momento più buio della vita del redentore grazie per l'ascolto grazie a tutti grazie a tutti